Gianluca, un grande Verona per gran parte della gara e comunque un punto portato a casa dove non se ne portavano a casa da sei anni contro la Roma. Sì, abbiamo dimostrato di essere una bella squadra, ecco. C'è molto rammarico perché era una partita da portare a casa, vincevamo 2-0 fino al sessantesimo. Avevo l'impressione che comunque non potevano mai ripareggiare, ecco. Poi comunque giochi a Roma, all'Olimpico, 50.000 persone, quanti erano. È stata dura, però c'è rammarico. Quali sono però i pregi del Verona? L'avevate preparata così come nel primo tempo? Sì, sì, l'avevamo preparata benissimo, come sapevamo, ecco. Come ogni partita prepariamo e abbiamo fatto un bel calcio, soprattutto nel primo tempo. Poi nel secondo tempo è normale che comunque esci dalla Roma e c'è rammarico, ecco. Sei in grande fiducia, anche oggi ti riuscivano veramente delle belle giocate. Sì, sto bene, come inizio anno ho detto, sto bene, mi trovo bene con la squadra, con il gruppo, con il mister, con tutto l'ambiente. Devo continuare così. Mi hanno seguito in più di 700, questa trasferta molto lontana per Verona. Si sono fatti sentire anche in uno stadio pur pieno, come hai detto tu. Sì, il tifo nostro è importante, ecco, ci spinge ogni partita, soprattutto in casa, perché quando giochiamo in casa si sente molto di più. Dobbiamo continuare su questa strada e dare magari qualche soddisfazione ai tifosi. Ecco, magari domenica contro il Venezia è un'altra sfida molto importante, tre punti vorrebbero dire quota 40. Sì, abbiamo una grande opportunità, giochiamo in casa, nel nostro stadio, prepariamo la partita come abbiamo sempre fatto e speriamo di portare a casa un risultato positivo.